Questa era pure buona Anche questa era buona, dai Sono ancora un novellino, eh Amico, è stato folle Vado alla prossima gara, vieni anche tu Certo Certo che ci sarò Alla prossima Alla prossima Preparati Sarà una corsa molto a fiato Io sono già pronto Porca troia Fa un culo, ho perso un botto di punti Questo era buonissimo Questo era buonissimo però, eh Cazzo Cazzo Ho 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 porca puttana non è giusto così però ho fallito ma grazie al cazzo però in questo modo il gruppo è lento e troppo veloce forse sarebbe meglio riprovarci questa volta però sto cazzo di gruppo non mi fotte fa un c**o super che fai vuoi superarmi cazzo oddio porca troia porca troia non sto a capire un c**o questa era perfetta però è ok è stato pazzesco mi trovi alla base quando hai finito ci vediamo là va bene va bene nessun problema ehi vieni qua ti mostro una cosa va bene quello che vedi qui è il nostro obiettivo ma non è lì non è possibile senti qua cucchia davanti al gruppo noi tutti dietro sbandando scudando facendo il solito e dal nulla aj schizza via come un fulmine finiamo sulla i5 aj taglia lo sparti traffico come se niente fosse otto auto in questo folle treno autostradale ad alta velocità accidenti rob credevo dovessimo vederci si vederci qui amico sei venuto anche tu a unirti al circo ti manda travis che no no stavo io me ne stavo al diner e ho sentito una voce riguardo una stupida gara sull'autostrada devono aver perso il mio invito ma non è il tuo genere infatti continuate pure a divertirvi ok io vado come vuoi lasso perdere è solo geloso in ogni caso adesso io e te lavoriamo insieme per raggiungere velocità di quel tipo così fare il tuo lo stile di rischi debili ehi la sono robin dei ragazzi si ritrovano a burnwood io non posso andarci ma tu dovresti passare diriggiti la e vedi che succede ti richiamo fra un po a dopo a dopo andiamo a vincere anche questa volete passare dietro no cazzo macchina di merda macchina di merda fammela tu drift così ehi amico ho qualcosa per te hai sentito parlare di eddie dei famigerati insiders no era il numero uno aveva una tipa da urlo melissa con cui andavo a porca troia lasciamo stare acqua passata lasciamo stare comunque stanno preparando una sfida con piloti scelti con red di un certo livello sta pronto io sono pronto se solo non sbattevo due volte porca demonio avrei vinto anche questa gara li leggi i messaggi o no ci sono un mucchio di gara in partenza spero tu non sia impegnato o peggio in giro con spike scherzo non troppo a presto ciao ma io li leggo i messaggi ehi i ragazzi dicono che non sei all'altezza come? torna là e mostragli chi comanda a dopo ma io certo che ci torno e subito anche che amare buona 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 buona